Siamo bellissimi, abbiamo messo così, andiamo, noi siamo qui, favorita, favorita diciamo per essere favorita, è un gioco che non possiamo fare, però è un bellissimo gioco, siamo in campania con il gioco, di cui ce l'ha anche la telecamera, grazie, vedete? Mariana, con il generale, cosa ne pensi questa sonata? Il giornale, bellissimo, siamo soffYes, soff veux non dir ça. Antonio, vado a me, vi genuziate avvestate, abbiamo un bagno, si può seguire, sembra che non ci abbiamo un petito, è disposto a dire, sembra che non ci abbiamo un petito, ma è saluto a te. Adesso come siamo? A Malam. C'è male che è un po' per coglioni, se vi è voluto vuotare un po' da male. Vai da, c'è il popolo di Facebook, YouTube, Twitter, Messenger e Skype, vedi, c'è il contatto di televisione, è un weekend ex. Bene, allora per esempio, ho una Hendy, vi voglio presentare una ragazza che, ah Hendy, ma non è perciò, ma Hendy non è perciò, salutate, 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 non vuoi salutare, eh, perché poi dirà, non vuoi salutare, saluta, 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 taglia, ho vi presento una ragazza, saluta russa, russa, che a noi ci piaceva, che ci piaceva, Sì, ma qua, Daniela, vuoi dire qualcosa al popolo? Sì, perché come mai vuoi dire tornare? Hai capito che la bionda di là è una pezza, che? Adesso ti senti dragato? Adesso non dire queste parolacce, in tv si possono pensare, c'è qualche morto esce, allora tu che? Sì, ma noi così ce la facciamo soft, senza problemi, siamo una bomba, no? Sì, una bomba, tantissima, buonasera, a mangiare non andiamo più, perché noi ci facciamo solo in mare, a mangiare ci siamo scocciati. Ma già se ne parla un tubo, il tubo è quando inizia a fare freddo. Freddo, bravo, noi ci facciamo la prossima, siamo bene molto. Ok, allora vi salutiamo a tutti, anche le nostre fans, per chi volete contattare Antonio Finizio sul Facebook, Antonio Finizio anche sul Twitter. Vabbè, qualunque contatto, chi si mette, se sei un po' timido, lui ci capace e io li passo nel contatto. E' un po' timido, qualcuno che qui ci capace e ti passo in contatto di qualche pezzino, qualche pezzeghino, vedete un po', per tutte le singole, vedete, chiamate, 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 chiamate.